Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video pronostici per la Serie A, venticinquesima giornata, la ventiquattresima è andata abbastanza bene, c'è stato un Bologna Genoa 2 che ha fatto un pochino sfalsare le schedine, come mi ha detto Nelson Gonzalez, che saluto, che abbiamo perso la schedina, Nelson, peccato, e poi voglio salutare altri miei nuovi iscritti come Dragon Peppe e Vito Marangi, ciao ragazzi grazie mille per l'iscrizione, anche voi nuovi che vi state iscrivendo in questo momento scrivetemi sotto, mi sono iscritto al canale, io nel prossimo video vi saluterò. Detto ciò partiamo con i pronostici che vedono in campo Brescia-Napoli, allora il Brescia praticamente non vince da cinque partite, se non mi sbaglio perde addirittura da cinque partite, il Napoli è in forma, l'ultimo passo falso l'ha fatto in casa con Lecce perdendo per 3-2, però in generale ha acquisito una buona forma da quando è arrivato Gattuso, ha praticamente armetizzato la difesa e vince le partite anche di misura e secondo me vincerà questa partita, quindi 2. Bologna-Udinese, il Bologna ha la seconda chance in casa di fare punti, ha perso la prima col Genoa malamente, secondo me vedo un Bologna 1x, anche perché l'Udinese fa fatica a segnare mentre il Bologna fa qualche gol in più, quindi 1x Bologna. Spal-Juventus, ovviamente prima contro l'ultima direi 2. Fiorentina-Milan, Fiorentina-Milan è una sfida che mi piace, direi che vista la quota ci starebbe mettere l'X2 del Milan perché comunque la Fiorentina non ha molto da dire, si trova a metà classifica, ha appena vinto 5-1 in casa della Sampdoria, però il Milan, derby a parte, che comunque è sempre una partita a sé, sta dimostrando da gennaio di essere in ottima forma, quindi secondo me andrà lì a fare risultato. X2, Genoa-Lazio! Genoa-Lazio è una partita che non darei così per scontata, anche perché il Genoa è in serie positive da 3-4 partite, quindi si è avvicinata anche molto la Sampdoria, quindi è molto ridosso del limite, quindi potrebbe con una vittoria addirittura scavalcare i cugini e mettersi al momento in salvezza. La Lazio ovviamente dal canto suo è una squadra molto in forma, appena abbattuto l'Inter segna sempre il capocannoniere, tutto a suo favore, vero, però secondo me qua ci potrebbe essere una partita da gol perché la vedo molto incerta. Verona-Cagliari, anche qua secondo me è una partita che vale un pochino l'Europa, perché comunque sono lì seste e settime, il Cagliari in serie negativa da diverse partite, il Verona invece è una squadra più quadrata, secondo me potrebbero giocarsi alla visa aperta, perché fondamentalmente non hanno nulla da perdere, quindi gol anche in questa partita. Atalanta-Sassuolo! Vabbè Atalanta è lanciatissima, fortissima, ragazzi, sta dando lezioni veramente come società, come allenatore, come squadra a tutti in Italia, perché con poco stanno dimostrando di poter far tanto. Quindi complimenti all'Atalanta, ma questa era una parentesi. Ci sta l'over 2,5, ecco, perché comunque Sassuolo è squadra che si presta a questi risultati, l'Atalanta fa tanti gol, over 2,5. Torino-Parma, Torino che perde da 5 partite di fila, attenzione. Vero che il Parma fuori casa è più forte che in casa, però il Torino, ragazzi, rischia la Serie B e A più 5 sul Genoa. A questo punto direi che è una questione di vita o di morte, penso che il Torino debba vincere questa partita. Quindi 1, Roma-Lecce, attenzione, una partita che non do così per scontato perché Lecce arriva da 3 vittorie di fila. La Roma, se non mi sbaglio, dà 3 sconfitte di fila. Secondo me qua l'uno è un po' rischioso, potrebbe restarci però un gol ospite che è sicuramente quotato molto bene. Inter-Sandoria non la pronostico, per chi mi conosce da tempo sa che non faccio il pronostico sull'Inter perché sarei troppo di parte e quindi non sarei neutrale. E basta, io vi saluto, iscrivetevi al canale, andate a vedere il mio video che si chiama 3 metodi per scommesse vincente e prendete spunto per fare le vostre scommesse. Ciao!